Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea, oggi siamo qui con Giulia, mio fratello, e Zoe Saluta! Ha scritto ciao però non si vede Vabbè, oggi siamo qui per andare a fare i pet neon Quindi andiamo a fare, io andrò a fare la scimmia insieme a Zoe perché siamo insieme Una ce l'ha lei e una ce l'ho io Giulia andrà a fare un cioccoletto labrador Prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri video E iniziamo con il video Allora io quindi andrò a fare la scimmia insieme a Zoe perché ne ho già fatte tre anche con l'aiuto di Giulia Cioè questa qui è la terza e la quarta c'è la Zoe che mi ha aiutato E quindi non vedo l'aria di fare la neon Poi in futuro dovrò fare neon anche il bat, il gatto, il lunar ox e l'ox Quindi ci saranno un sacco di pet da fare neon Quindi io visto che ho già un po' di missioni direi di iniziare Quindi scrivo iniziamo Andiamo a fare le missioni Come al solito andremo a fare a pezzettini le missioni Quindi vi facciamo vedere soltanto il pet Facciamo vedere che ci danno i soldi E anche vi facciamo vedere a volte dei pezzettini in cui parliamo In cui vi diciamo che la scimmia si sta alzando E la mia è quasi finita perché è post-in Dopo c'è Fingram E ci mancherà quella di Zoe Che andrà a fare Io intanto inizierò un altro pet Mentre lei la finirà E poi andiamo a fare la neon sotto al ponte Per andare al centro Ho fatto quest'altra missione Comunque mi mancano poche missioni a finire la scimmia Dopo andrà ad aiutare Giulia con il cioccoletto e l'abrador E intanto Zoe sta facendo anche lei le missioni per la scimmia Vi lascio con il continuo del video Ragazzi allora questo video è molto corto Infatti è durato soltanto due minuti Però lo divideremo in più parti In cui vi faremo vedere che andiamo a fare I pet neon Quindi spero che il video vi sia piaciuto Ci vediamo nella prossima parte E ci vediamo a un prossimo video Ciao 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 Grazie.